Giovedì 10 giugno in Puglia sono stati registrati 6405 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 123 casi positivi, 23 in provincia di Bari, 33 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAPT, 14 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto, un caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 8 decessi di cui 5 in provincia di Foggia, 230.425 sono i pazienti guariti dall'inizio dell'emergenza, 14.877 sono i casi attualmente positivi di Covid-19 in Puglia. Fitta l'agenda di appuntamenti organizzati dal Cine Amabari nella sede di Tricase Lecce in occasione della giornata mondiale degli oceani nell'ambito delle attività del progetto europeo Common, un progetto che mette in rete istituzioni nazionali e locali, enti di ricerca e associazioni provenienti da 5 aree pilota tra Italia, Tunisia e Libano per elaborare soluzioni comuni per la lotta all'inquinamento costiero e la corretta gestione dei rifiuti solidi marini. Organizzato dal Cine Amabari insieme a Legambiente è un confronto tra le due aree pilota del progetto il Salento e la Maremma che ha permesso alle amministrazioni comunali coinvolte di individuare soluzioni e strategie per la lotta all'inquinamento marino. Un oceano, un clima, un futuro insieme è il focus scelto per l'edizione 2021 dell'appuntamento internazionale celebrato dal Cine Amabari con l'evento organizzato insieme ad Arpa Puglia, agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente. Un momento di confronto che ha preso il via con la liberazione nelle acque a largo del porto di Tricase di due tartarughe marine. Un mare pulito, un futuro sostenibile è il titolo del meeting sulle buone pratiche da attuare per tutelare i nostri oceani e i nostri mari e garantire un futuro alle giovani generazioni. A chiudere l'intensa giornata la premiazione dei vincitori del concorso fotografico Il bello, il brutto e il cattivo nei mari della Puglia promosso da Arpa. Abbiamo deciso di celebrare proprio qui presso la sede di Tricase questa giornata mondiale degli oceani avendo di fronte il nostro mar Mediterraneo, il mare Nostrum. È un mare piccolo, rappresenta l'1% di tutti gli oceani, però in questo mare vengono riversati ogni anno il 7% dei rifiuti di tutti gli oceani. Quindi è un mare molto vulnerabile, è una possibilità di salvaguardare questo nostro mare e quello di fare azioni concrete, progetti, attività che portiamo avanti e che oggi illustreremo come il progetto Common, un progetto che si rivolge a 500 soggetti, un progetto internazionale che vede convolto oltre la regione Puglia e la regione Toscana anche l'Ega Ambiente ma anche la Tunisia e il Libano. Quindi un progetto a dimensione globale per cercare di far fronte a problemi enormi come quella della plastica in mare. Credo che gli obiettivi importanti debbano essere perseguiti da tutti e anche lei ha citato prima l'avamposto, questo è un esempio straordinario di come mettendo insieme le energie, le proprie capacità si possano raggiungere dei risultati importanti. Credo che questo sia veramente un posto unico dove poter fare ricerca davanti al mare in un posto veramente straordinario. Anche per questo dobbiamo mettere insieme le nostre competenze, le nostre potenzialità perché l'obiettivo è non solo ambizioso ma è urgente, quindi necessita di forze che devono lavorare all'unisono. Abbiamo deciso di fare rete col Siam e in questa rete abbiamo pescato tanti eventi e tante azioni, evidentemente azioni di controllo, azioni di monitoraggio ma anche azioni di divulgazione. Il mare è un capitale naturale straordinario, per la Puglia lo è ancora di più perché noi siamo circondati dal mare per quasi 900 chilometri e nello stesso tempo però abbiamo bisogno per proteggere questo capitale naturale anche del capitale culturale e quindi divulgazione, momenti di confronto e spinta nei confronti dei cittadini affinché diventino protagonisti di questa tutela ambientale perché affidarla solo alle amministrazioni o solo alle istituzioni non basta. Abbiamo bisogno di un protagonismo dei cittadini, quindi di una crescita culturale e di una tutela ambientale che non sia evidentemente solo slogan, convegni o seminari ma anche azioni concrete e cultura dell'ambiente. In attuazione del piano di azione locale Mary Downie ha pubblicato un nuovo bando Fondo FEASR PSR 2014-2020 Palmonti Down Intervento 241, investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole, artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona che dà la possibilità di avere un sostegno finanziario pari al 50% a fondo perduto per realizzare molteplici iniziative e investimenti nei settori dell'artigianato tipico, dei servizi al turismo e dei servizi alla persona. La scadenza è 30 luglio 2021, il bando e gli allegati per presentare domande di aiuto sono pubblicati sul sito www.meridaunia.it L'estate ursarese 2021 comincerà domenica 13 giugno con l'evento Escursione Naturalistica sui Monti Downie, organizzato dall'Associazione Verde Mediterraneo in collaborazione con il Comune di Orsara e la Cooperativa Ortovolante. L'estate green di Orsara di Puglia continuerà domenica 20 giugno, quando si potrà svolgere la giornata FAI per l'ambiente rinviata nelle scorse settimane. Dopo i primi due appuntamenti, anche gli altri eventi che si svolgeranno nelle settimane a venire saranno incentrati su ambiente e patrimonio storico-culturale-architettonico. Tornerà il Fine Confine Festival, che quest'anno conterrà anche una sezione dedicata ai bambini, con ospiti d'eccezione per ciò che riguarda il panorama del teatro e del cinema italiano. A metà luglio sarà proposta una nuova edizione di Orsara in Fiore, mentre a partire dal 24 luglio ogni sabato ci saranno le letture piccine al Parco San Mauro a cura di Milena Tancredi. Grazie per la visione!